La discussione sulla riforma della legge elettorale regionale proposta dal presidente Marco Marsilio è già iniziata. Ieri la commissione statuto presieduta da Daniele Damario si è riunita in prima battuta per avviare il dibattito al quale hanno partecipato Massimo Verrecchia, Carla Mannetti e Marianna Scoccia per il centrodestra e Luciano D'Amico, Silvio Paolucci, Alessio Monaco, Giovanni Cavallari, Ennio Pavone, Francesco Taglieri per le opposizioni. La riforma in discussione della legge elettorale regionale eliminerebbe i quattro collegi facenti capo alle quattro province che attualmente esprimono rispettivamente sette consiglieri eletti per le circoscrizioni di Teramo, Pescara e L'Aquila e otto per la circoscrizione di Chieti per un totale di 29 eletti che arrivano a 31 con l'elezione diretta del presidente e del candidato presidente sfidante che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore e che entra di diritto nel consiglio. Con la riforma il numero dei componenti del consiglio regionale non cambierebbe ma gli eletti sarebbero espressione del collegio regionale unico. Tra le novità sostanziali anche la possibilità di esprimere sulla scheda tre preferenze conservando la doppia preferenza di genere. La discussione si aggiornerà il 21 novembre come disposto dal presidente Daniele Damario per valutare le proposte avanzate dai membri della commissione. Il principio fondamentale è quello di trasformare i collegi provinciali in un collegio unico regionale con lo spirito di far sì che tutti gli eletti si sentano eletti non di un collegio elettorale dove spesso ci si rifugia ma diventano gli eletti di tutta la regione Abruzzo. L'altra modifica sarebbe quella di fare una lista regionale con più persone di quelle che invece verrebbero eletti quindi diciamo nello spirito di trasformare i consiglieri regionali in consiglieri di regione Abruzzo e non consiglieri regionali dell'Abruzzo ma eletti in una sola provincia. Tra i dubbi finora sollevati due su tutti l'aumento delle spese per la campagna elettorale dei candidati che dal territorio provinciale passerebbe all'intera regione e il minor peso elettorale delle aree interne che potrebbero trovarsi orfani di rappresentanti avendo le aree più popolose soprattutto la costa un maggior peso elettorale. I risultati elettorali recenti dimostrano tutto il contrario se vogliamo dire che il primo eletto è di trasacco che Chieti città non ha eletto nessun consigliere regionale che il comune di Pescara ha eletto solo tre consiglieri regionali quindi insomma le ultime elezioni dimostrano il tutto il contrario. Ieri c'è stata una riunione cosa è emerso? Ieri c'è stata la prima seduta della commissione per l'attuazione le modifiche allo statuto in cui è partecipato anche il presidente Marsiglio come audito devo dire che siamo partiti con il piede giusto sia le minoranze che i gruppi di maggioranza hanno sviscerato quali sono i punti di forza della nuova legge elettorale e anche i punti deboli. Ho dato mandato ai consiglieri ai commissari della commissione di mandarmi le persone che secondo loro vanno audite ovviamente cominceremo da ANCI cominceremo dall'associazione di categoria dalla commissione pari opportunità per poi sentire tutte le persone che possono darci un contributo all'elaborazione della nuova legge elettorale. Di che tempi si parla? Io ritengo che lavorando in commissione con lo spirito giusto nel giro di un anno si possa arrivare all'elaborazione di una nuova legge elettorale.